Eppure il vento soffia ancora, sbrutta l'acqua alle navi sulla prora, e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori di bacia e non ricoglie. Abbiamo sviluppato su tutto il territorio iniziative importanti per ricordare i 60 anni, ma naturalmente anche per focalizzare l'attenzione sui problemi e sui temi che più in questo momento ci sono nel nostro animo, i temi che ci stanno più a cuore. Così l'ANMIC sta celebrando i suoi 60 anni di attività, i suoi primi 60 anni di attività al fianco dei più deboli, di chi soffre o semplicemente di chi rivendica quei diritti che ancora devono diventare legge o che non vengono rispettati nemmeno se messi in rosso bianco. Tanti appuntamenti in tutta Italia, ad esempio la recente conferenza nazionale sulla disabilità a Firenze per sviluppare i temi più urgenti in vista del bilancio finale la prossima primavera dopo la festa conclusiva del 14 marzo. Il lavoro è uno degli argomenti più caldi, non può che essere così visto che un'occupazione a maggior ragione per le persone disabili garantisce la sicurezza economica ma anche una più efficace inclusione sociale. Un piccolo passo dopo il lavoro e le pressioni costruttive di associazioni quali l'ANMIC è stato fatto col decreto correttivo al Jobs Act, sanzioni inasprite per le aziende che non assumono disabili secondo gli obblighi di legge. Questa è una buona notizia però in un quadro abbastanza precario che ancora si presenta soprattutto per i disabili. Naturalmente noi vorremmo che fosse fatta una politica ancora più attenta, ancora più fattiva nei confronti dell'inclusione lavorativa per i disabili. In sostanza la multa sarà pari a 5 volte il contributo esonerativo consentito dalla legge quadro che così diventa meno conveniente per le imprese. Una buona notizia visto che l'inserimento lavorativo dei disabili presenta numeri costantemente alti. A Parma per esempio il SILD riesce a collocare ogni anno più di 400 persone ma sono oltre 4.000 quelle che restano in attesa. Per questo si chiede allo stesso tempo un incremento dei controlli antifurbetti del lavoro. Elevare soltanto il livello sanzionatorio ma non accompagnarlo anche con forme di controllo questo poi significherebbe vanificare la legge che è stata posta. Naturalmente in questo frangente siamo ancora più decisi a che si metta mano un po' ad una riforma della legge 68-99 per far sì che questa legge possa essere applicata e possa trovare finalmente la sua giusta applicazione e possa dare i benefici che tanto si auspicavano nell'anno in cui fu emanata la legge e che purtroppo nel corso degli anni è stata un po' depauperata, un po' depotenziata da tante altre normative che sono intervenute. L'associazione Anmici a Parma conta oltre 4.000 iscritti, 3 sedi provinciali, Borgotaro, Fidenza, Langhirano 100 volontari e servizi che vanno dall'assistenza legale e sanitaria al lavoro, dalla casa alla scuola dalla mobilità allo sport. Pensate allora quanto diventa importante un altro tema di stretta attualità il dopo di noi. Molti genitori non sanno i propri figli o i propri congiunti più cari, più stretti che fine potranno fare alla fine di un percorso di vita che ha visto il sostegno familiare purtroppo verrà meno in un certo momento. Ma noi siamo anche convinti che però questo diciamo sì dopo di noi deve cominciare con il durante noi perché già oggi noi assistiamo a delle difficoltà eccessive nell'ambito familiare per sostenere i disabili gravi e gravissimi. Genitori anziani che non hanno più la forza fisica di poterli sostenere. Che tutela e che garanzie hanno le persone disabili una volta che non ci saranno più al fianco i genitori a prendersi cura di loro oppure i parenti o se non avranno più risorse economiche non potendo lavorare. È stata fatta una legge sul dopo di noi accolta dall'ANMIC positivamente ma con qualche riserva. Non siamo tanto d'accordo sul Trust che è uno strumento introdotto nel nostro sistema copriando un po' il sistema anglosassone ma naturalmente riteniamo che il Trust va bene per i grandi patrimoni ma oggi difficilmente noi troveremo soggetti disabili che hanno grandi patrimoni. Si teme che qualcuno come spesso succede ne possa approfittare. Questo ci preoccupa un pochino perché potrebbe dare vita a quella serie di lobby che creerebbero diciamo così delle difficoltà non indifferenti. Mi riferisco a tutte le assicurazioni, i grossi gruppi bancari. Io ripeto il Trust è uno strumento che avrei tralasciato in questo momento perché non è confacente alle esigenze del mondo della disabilità e a questo mondo della disabilità avrei più che altro privilegiato altri istituti che sono già presenti nel nostro ordinamento. Avrei potenziato l'amministratore di sostegno per esempio. Su questi obiettivi e su tanti altri si lavora quotidianamente anche nella sede ANMIC di Parma numero 4 di Via Stirone. Le iniziative sono all'ordine del giorno e spaziano in più settori. Ad esempio è nato da poco il progetto biennale non a caso chiamato Uniamo le Forze e tra l'ANMIC e l'Intercral. L'obiettivo comune è andare incontro alle persone che hanno maggiori bisogni. Nasce l'idea da un'esperienza che da diversi anni facciamo di trasporto oncologico e da quest'anno abbiamo iniziato sempre con altre associazioni a fare il trasporto dei disabili per il comune a portare a scuole, a riportare a casa i ragazzi disabili. Da qui è nata l'esigenza di arricchire il nostro parco veicolare. Sulla mobilità e i trasporti spesso fondamentali per un disabile l'ANMIC mette a disposizione dell'Intercral uno dei due pulmini in dotazione ciascuno per una decina di giovani nel tragitto casa-scuola. Un'integrazione anche tra mezzi e volontari delle singole associazioni. Quando si tratta di unire le forze sono sempre d'accordo. Uno da solo non riesce a fare niente invece unendo le forze si riesce a fare tanto. Io sono d'accordo di metterci assieme per aiutare le persone disabili. I risultati sono quotidiani. Il nostro tesseramento quest'anno ha ricalcato in pieno le previsioni che avevamo preventivato nello scorso anno ma soprattutto hanno ricalcato in pieno diciamo così l'andamento dello scorso anno. Non abbiamo subito contrazioni anzi c'è stato un piccolo aumento e quindi significa che l'azione di ANMIC è molto favorevolmente accolta sul territorio. Numeri per presentare con sicurezza e fiducia le proprie proposte alle istituzioni e al governo. Non a caso l'ANMIC siederà il tavolo del nuovo osservatorio in materia di lavoro. Chiaramente vorremmo un pochino di attenzione da parte del governo proprio nella legge di bilancio e che si possa prevedere anche un piccolo incremento per le minime pensioni degli invali di civili che ammonta 278 euro mensili. Quindi se ci fosse anche un minimo di attenzione di questo governo nei confronti di questa categoria questo potrebbe essere accolto veramente in modo molto significativo. Ne saremmo veramente felicissimi ma tante famiglie potrebbero alleviare seppur in misura molto molto minima ma è un segno di attenzione che noi ci auguriamo che ci possa essere. Lo abbiamo proposto e lo riproporremo. L'ANMIC che fa parte della federazione FANDA è del resto l'associazione più grande per quanto riguarda la rappresentanza dei disabili e degli invali di civili. Ci confrontiamo con le altre associazioni avendo la presunzione di non essere diciamo così l'associazione sicuramente di essere l'associazione rappresentativa più estesa territorialmente, avere una rappresentanza che ci deriva dalla legge, avere la rappresentatività perché i nostri iscritti e quindi parte dei cittadini italiani hanno voluto chiaramente dare fiducia all'ANMIC naturalmente siamo impegnati per il prossimo anno nel rinnovo del tesseramento e quindi auspichiamo che i cittadini che ci hanno sempre dato fiducia ce la continuino a dare e che ci siano altri cittadini che possano trovare nella nostra associazione un punto di riferimento. E' la legge a certificare il valore dell'ANMIC che ha la responsabilità di lavorare e intervenire per tutti i disabili non solo per i propri iscritti. Non siamo noi che scegliamo i nostri iscritti, sono i nostri iscritti che scelgono noi ma noi per legge dobbiamo tutelare tutta la categoria dei disabili. Lo facciamo sempre molto volentieri con grande competenza, i presidenti provinciali sono delle persone veramente preparate, quotidianamente si impegnano per alleviare, per cercare di sollevare le sorti culturali anche di questa società e quindi io non posso che essere contento, felice ed orgoglioso di questa associazione. Grazie a tutti i nostri iscritti, sono i nostri iscritti, sono i nostri iscritti,